Una buona serata dalla redazione di ETV e benvenuti a questa nuova edizione del nostro TG che come sempre potete seguire in televisione sul canale 12 ma ci trovate in contemporanea anche in streaming sul nostro sito www.etvmarche.it e poi ovviamente sulla nostra pagina Facebook e sulla nostra app Iniziamo subito purtroppo con la cronaca all'inferno nella galleria Cagulino lungo la strada statale 73 bis tra Urbino e Fermignano dove ieri è avvenuto il tragico scontro tra un'ambulanza della Potes di Fossombrone e un pullman di ragazzini in gita parrocchiale Per noi sul posto oggi l'inviata Linda Cittadini che ci racconta nel servizio il dolore e gli sviluppi di questa terribile vicenda con le immagini di Diego Menna Esce ancora del fumo dalla bocca della galleria tra Urbino e Fermignano teatro di un tragico incidente nella giornata di ieri uno scontro tra un autobus e un'ambulanza hanno perso la vita 4 persone Ovvero l'equipaggio dell'ambulanza e il paziente che in codice giallo doveva essere trasportato all'ospedale di Urbino Alberto Serfilippi di 85 anni All'ospedale di comunità di Fossombrone da dove era partita l'ambulanza c'è una cappa di dolore e silenzio per la perdita di Cinzia Mariotti infermiera di 49 anni Stefano Sabatini 59 anni l'autista del mezzo di soccorso e Socol Oxa medico di origine albanese di 41 anni che aveva studiato all'università politecnica delle Marca d'Ancona Sono morti nella deflagrazione delle bombole d'ossigeno dopo l'impatto con un pullman pieno di ragazzini e bambini tra i 7 e i 16 anni in gita dalla Rivera delle Palme a Urbino con le parrocchie di Cupra Marittime e Grotta Mare Stavano tornando a casa in 7 hanno riportato solo ferite lievi Questo testimone li ha visti uscire dalla galleria C'era il problema del fumo non si poteva entrare perché in galleria poi diventa un tunnel pericolosissimo abbiamo fatto arrivare l'ambulanza una da nord e una da sud per poter prendere la galleria nelle due ma fin tanto che i vigili del fuoco non hanno messo in sicurezza chiaramente non siamo potuti entrare quindi c'era anche la sofferenza di vedere i propri colleghi dall'altra parte e non riuscire ad entrare nell'immediato Si è chiuso nel silenzio l'autista del pullman che avrebbe suonato più volte il clacson vedendo che l'ambulanza gli stava arrivando addosso per questo tra le ipotesi non si esclude quella del malore Stefano era un bravo autista dice Ermanno che lavorava all'ospedale di Fossombrone nel laboratorio analisi Io non ho mai visto andare nella scandicenza no tranquillo una persona normale diciamo era bravo solamente tutto qua Persone fantastiche e speciali mi dispiace solamente per quello che è successo Troppo una tragedia l'autista era una persona spettacolare ma tutti Stefano stanno lì per salvare le vite Grande sgomento, grande incredulità iniziale che poi lascia lo spazio alla tristezza Erano delle persone dedicate all'emergenza che hanno lavorato quasi esclusivamente per l'emergenza da anni quindi di grande competenza, di grande professionalità anche il medico che pur essendo straniero ha sempre lavorato nelle continuità assistenziali adesso nell'emergenza quindi di grande esperienza anche lui Sono stata a Fossombrone la settimana scorsa proprio per organizzare il lavoro con loro e il sacolo avevo incontrato per i problemi della continuità assistenziale una persona umana, gentilissima così come l'infermiera, l'autista e tutto quanto Verrà aperto un fascicolo d'inchiesta dalla procura di Urbino mentre l'ANAS sta facendo le verifiche sulla galleria danneggiata da rogo sotto sequestro i mezzi coinvolti o meglio quello che ne resta Sono tutte ambulanze nuovissime, credo che abbia 4 anni di vita collaudata recentemente, collaudate periodiche quelle che noi facciamo Questo mezzo è stato revisionato ed è uscito dall'officino una settimana fa Per i colleghi della Potes il fardello di tornare sull'ambulanza con il macigno sul cuore c'è anche un supporto psicologico messo a disposizione dalla direzione sanitaria Risalgono in ambulanza e quindi hanno paura di quello che è successo, il timore e quindi devono essere assolutamente aiutati perché sembra brutto dirlo ma l'emergenza deve andare avanti E invece per quanto riguarda la viabilità sono in corso in queste ore da parte dei tecnici ANAS i rilievi per accertare i danni subiti dagli impianti elettrici e di sicurezza a servizio del tunnel e della pavimentazione della galleria i danni comunque sarebbero ingenti ma solo una volta ultimate le verifiche sarà possibile valutare gli interventi per il ripristino e quindi stimare anche i tempi per la riapertura intanto il traffico viene deviato sul vecchio tracciato della statale Ed ora voltiamo pagina la politica conferenza stampa questa mattina del gruppo assembleare del Partito Democratico che spara a tutto campo sulla giunta Acquaroli un governo, dicono, completamente fallimentare sotto tutti i punti di vista Sentiamo Liste di attesa ed edilizia ospedaliera lavoro e disoccupazione aumento della povertà carenza di infrastrutture mancanza di interventi in ambito sociale ed economico così come nel sostegno al lavoro e alle politiche di genere e anche in ambito ambientale infine inadeguatezza della nuova norma urbanistica Il Partito Democratico spara a zero sulla giunta Acquaroli e sul suo operato inadeguato, spiega il capogruppo PD in consiglio Maurizio Mangialardi sotto tutti i punti di vista Il non governo della giunta Acquaroli che fa veramente acqua da tutte le parti Un fallimento che sta principalmente nella sanità ma quello lo dice la Corte dei Conti e lo dicono i revisori dei conti ma penso che si rendano conto i cittadini e le cittadine che tutte quelle promesse che avevano messo in campo in ogni settore dopo il quarto bilancio sono state completamente disattese Sulla sanità però in realtà una cosa buona è stata fatta scherzano in casa PD finalmente parole testuali è stata trovata una badante per Salta Martini il riferimento è al nuovo sottosegretario alla sanità l'ex primario di Torrette Aldo Salvi che affiancherà l'attuale assessore Un sottosegretario si dovrebbe occupare di tutto Invece è un sottosegretario alla sanità che surroga di fatto l'assessore con compiti specifici e generali quindi si rendono conto anche loro dopo i consiglieri di maggioranza che sulla sanità hanno completamente fallito Non è finita qui il PD rincara la dose sui problemi che il governatore Acquaroli sta affrontando in questi ultimi giorni da un lato la questione dei terremotati di Ancona rimasti al momento fuori dai fondi per la ricostruzione dall'altro il problema aeroporto e voli dopo gli ultimi eclatanti ritardi e cancellazioni Intere famiglie sfollate che si sono viste bocciare un emendamento alla manovra finanziaria da parte di quello stesso partito che abbiamo anche in regione quindi al contrario della cosiddetta filiera rispetto delle promesse fatte questo è il filo conduttore che vediamo in moltissimi argomenti da quello che riguarda le infrastrutture dove le marche sono sempre più isolate oggi il presidente Acquaroli si è svegliato scrivendo al ministro ma mi verrebbe da dire che più che scrivere dovrebbe trovare soluzioni visto che ci sono strumenti di diritto e contrattuali e visto che ci sono soldi pubblici delle marchigiane e dei marchigiani in ballo Ed è tempo di bilanci anche per la Coldiretti Marche il 2023 è stato un anno difficile a causa anche delle sfide che arrivano dal clima ma comunque un anno positivo il punto della presidente Maglia Letizia Gardoni sentiamo non è stato uno degli anni più semplici che abbiamo vissuto sia da un punto di vista agronomico e produttivo perché diciamo il 2023 è stato caratterizzato da una prolungata siccità che si è alternata con eventi alluvionali quindi parliamo di eventi climatici estremi gli alti costi di produzione dovuti agli scontri bellici in corso chiaramente hanno compromesso parte della produttività del settore agroalimentare e così come gli alti tassi di interesse l'inflazione all'11% il minor potere d'acquisto delle famiglie marchigiane per Coldiretti in generale il 2023 è stato comunque un anno di successi che sono stati raggiunti di iniziative messe in campo abbiamo continuato ad inaugurare mercati di Campagna Amica abbiamo chiuso il ciclo dell'inaugurazione dei mercati coperti con l'apertura del mercato coperto di Pesaro abbiamo realizzato il villaggio di Coldiretti a San Benedetto del Tronto abbiamo registrato numeri molto interessanti anche per quanto riguarda ad esempio la lavorazione delle superfici per la PAC con una percentuale che si aggira intorno al 50% quindi questo significa che Coldiretti continua ad essere e si rafforza sempre di più come rappresentanza agricola Quali sono invece le sfide che attendono Coldiretti e l'agricoltura delle marche? Una sfida sicuramente è quella del piano assicurativo dello strumento assicurativo perché oggi purtroppo solo il 7% e poco più delle aziende agricole delle superfici, anzi agricola marchigiana è assicurata la necessità di esplorare anche nuovi paesi per l'export a livello internazionale nel 2023 quindi in questo anno che si sta andando a chiudere la filiera delle DOP vale circa 140 milioni di euro ed è un valore che è cresciuto di oltre il 4% rispetto allo scorso anno le tantissime aziende biologiche che abbiamo nel nostro territorio andando a sfiorare la percentuale che la strategia europea Farm to Fork ha indicato come obiettivo da qui al 2030 e ad esempio la nascita del distretto biologico unico regionale delle Marche come esperienza unica nel suo genere la racconta molto bene Aggredito con un getto di ammoniaca da un cliente che era entrato nel suo ufficio e siamo ovviamente tornati alla cronaca e ci siamo spostati ad Ancona la vicenda è avvenuta infatti ieri nel quartiere di Torrette prima delle 20 quindi poco prima della chiusura un uomo è entrato in un'agenzia che si occupa di intermediazione immobiliare ha chiesto di sbrigare una pratica ma poi in realtà ha distratto il titolare e lo ha innaffiato con un getto di ammoniaca apparentemente senza motivo il liquido lo ha preso frontalmente nell'ufficio poi è nata una collutazione che è finita con la fuga dell'aggressore ferito a causa del liquido il titolare dell'agenzia un 52enne italiano sul caso stanno indagando i carabinieri mentre il 52enne è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Gialla fortunatamente le sue condizioni a quanto riportato non sarebbero gravi e non sarebbero gravi neppure le condizioni dell'escursionista che è precipitato oggi intorno alle 12 lungo un diaione in località Foro degli Occhialoni e siamo sempre nella provincia di Ancona a Fabriano l'uomo è stato recuperato come potete vedere grazie all'intervento degli uomini del soccorso alpino e dell'elisoccorso e poi è stato portato all'ospedale di Fabriano come dicevamo però le sue condizioni non sarebbero gravi ed ora cambiamo argomento in questo periodo di festa per molti marchigiani è anche periodo per un viaggio più o meno lungo e finalmente dicono gli addetti ai lavori siamo tornati con i numeri ai livelli pre-pandemia e allora facciamo il punto nel servizio voglia di partire in costante aumento queste vacanze a cavallo tra 2023 e 2024 segnano il ritorno all'epoca pre-covid si ritorna a guardare lontano anche se con qualche giorno in meno di viaggio i dati sono simili a quelli del 2019 quindi gli operatori sono soddisfatti sono contenti chiaro adesso vediamo quello che succederà nel 2024 seppur c'è qualche ombra per esempio la guerra in Israele che in qualche modo comunque condiziona i movimenti turistici però siamo soddisfatti in verità si è passato da una media di 11,5 a 10,5 quindi un pochettino più corte però per fortuna si è tornato numericamente ai stessi numeri del 2019 per quanto riguarda invece le vacanze corte quindi quelle relative soprattutto al corto raggio rimangono stabili sono meno di 3 giorni 3.8 scusate meno di 4 giorni 3.8 giorni come media la cosa positiva per noi operatori è che invece si spende di più quindi in verità è aumentata la propensione media alla spesa sia per passeggero che per pratica di circa il 20% in testa come sempre le classiche mete di stagione con interessanti new entry sono forte come sempre come tutti gli anni tutta la parte dell'oceano indiano quindi con le Maldive innanzitutto e ovviamente tutto quello che noi chiamo il Fariste quindi poi tutto l'estremo oriente l'area caraibica inevitabilmente con gli Stati Uniti perché poi passare fare lo shopping natalizio a New York è sicuramente un must stiamo notando nel 2023 invece una crescita molto forte di tutte le destinazioni africane soprattutto della parte africa australe per i viaggi brevi invece l'Europa perché per chi ha pochi giorni è l'unica soluzione ovviamente fattibile per spendere e fare 2-3-4 giorni di feste o di capodanno ma cosa cerca chi prenota un viaggio o una vacanza cerca soprattutto esperienze in vari ambiti soprattutto quello outdoor quindi vogliono fare molta esperienza diciamo un po' più all'aria aperta inevitabilmente su alcune destinazioni il caposaldo della cultura dalla parte gastronomica rimane però ripeto l'aspetto esperienziale è mai diventato una condizione prende in considerazione la destinazione quindi si sceglie prima l'esperienza e poi subito dopo la destinazione dove fare questa esperienza continua a far meravigliare la bi-humor di Tolentino ora anche con una mostra che è possibile visitare fino al 28 gennaio ci racconta tutto Roberto Properzi io auguro che tutti i cittadini possano venire a visitare perché questo è uno spaccato del mondo che spesso noi non immaginiamo nemmeno ma esiste uno spaccato del mondo in mostra così il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi ci presenta la mostra delle opere della 32esima edizione di Bi-humor il binomio biennale dell'umorismo nell'arte e pop Sofia che quest'anno chiude il suo ciclo decennale in mostra tante delle 2248 opere arrivate dai 745 autori sparsi in 59 paesi nel mondo poco meno di un mese fa si era celebrata al Teatro Vaccai la serata di premiazione e ora fino al 28 gennaio tutti potranno ammirarle al secondo piano di Palazzo Sangallo Sclavi poi guarda la biennale del futuro la biennale ha una storia alle spalle che noi non smentiremo sicuramente ha avuto tanti interpreti durante il suo corso ma lei è andata avanti sempre e comunque la stessa cosa faremo noi il futuro è aperto a nuove iniziative che metteranno in luce una situazione diversa come d'altronde nella vita si cambia ma si cambia fra persone civili è assolutamente compatibile con quello che è novità dal punto di vista culturale e tecnico Evio Ermas Ercoli direttore artistico di Biomor lascia una biennale da record la qualità debbo dire non è stata mai così alta è da visitare perché è gradevolissima debbo per essere chiari fino in fondo che forse mai come in questo caso non c'è niente da ridere non c'è proprio niente da ridere perché la preoccupazione le inquietudini la disperazione dei tempi contemporanei del contemporaneo è altissima e non c'è né ironia né sarcasmo che tenga c'è una forte curva verso il pessimismo e questo era il nostro ultimo servizio io vi ricordo che come sempre potete ritrovare tutti i nostri servizi e tante notizie sempre aggiornate sul nostro sito www.etvmarche.it e poi ovviamente sulla nostra pagina facebook e sulla nostra app sempre disponibile sui telefoni cellulari io come sempre vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona continuazione insieme ai nostri programmi e vi ringrazio vi ringrazio